E alla Mondatore mi hanno detto guarda, non è mai successo prima che un libro arriva fino a una ristampa e poi non esiste più, esiste un altro libro da quella pagina in poi. E lo sto cambiando perché è più vero, è più interessante ed è veramente dedicato a lui e lui se lo merita. Per giustizia divina fondamentalmente. Il prossimo libro sarà Meet me la boa, true, la verità. Allora buonasera mio caro, ti faccio una domanda perché sono una persona molto curiosa, tu sei un tipo romantico, vero? Sì, ma adesso la mia autrice ci bicchierà, però sai che in queste serate c'è un cielo molto terzo, lo puoi guardare molto bene, poi ti fermi con Giulia sempre a guardare in alto. Vedo il soffitto comunque, se guardi in alto. Ah ok, però magari quando fai una passeggiata. Stavamo parlando con l'ospite che ora fra poco vedrete, proprio di terrazzi per vedere oltre il soffitto. Esatto, quindi tu nel tuo terrazzo che ci sarà, se non c'è comunque passi, guardi in alto e con Giulia ammiri le costellazioni, quelle che brillano di più. Ma questa sera qua con noi c'è una… Quale costellazione? No, no, è una costellazione unica, perché abbiamo un ospite unico che brilla, di luce propria. Sì, e spesso accanto a questo brillare gente si è abbronzata. Ah beh certo. Diciamo così. E' abbronciata. Ma stasera chi è qua con noi? Abbiamo un ospite eclettico che fa tante cose, stasera piano piano faremo ordine con lui per capire da dove è partita, dove è arrivato e qual è stato questo percorso. Quindi diamo il benvenuto a… Paolo Stella. Polestar! Ciao ragazzi. Buonasera per l'invito. Ciao Paolo, grazie innanzitutto. Grazie a voi. Se uno dovesse oggi googolare Paolo Stella, chiaramente esce l'infinito. Tu hai un vasto… Io l'avete fatto? Io ho il terrorico, l'ho mai fatto. C'è una domanda al riguardo, c'è una domanda al riguardo. Comunque tu hai… diciamo che Paolo fa tante cose spesso, spessissimo legate al digitale e ha un vasto seguito sui social. Però sappiamo che in qualche modo rifiuta l'etichetta di influenza. Rifiuta o comunque non la vedi di buon occhio. Questa roba mi tocca, per cui a te lascio un po' la domanda. Cioè non ti piace essere definito così per il ruolo che ti dà o perché è una categoria nella quale tu non ti rispecchi? Non mi piace più che altro essere definito. Al di là di… io sono sempre stato definito dalla prima cosa che ho fatto, che appunto è stato amici di Maria, quindi sono stato quello di amici. Correva l'anno? 2003. Ok. E poi ho fatto l'attore, quindi ero quello delle fiction. Sono sempre stato quello di qualcosa e ho capito che nel definirsi la gente si priva di un sacco di possibilità. Nel momento in cui tu dici sono un influencer, fai l'influencer. Mentre quello che ho sempre fatto è stato fuggire da qualsiasi tipo di definizione, non perché ho un giudizio. Io sono felicissimo di essere anche un influencer. Non voglio essere categorizzato in qualcosa che non mi permette di fare altre cose. L'influencer in particolare, in questo periodo storico, si porta dietro un pregiudizio, che è anche una cosa bellissima dal mio punto di vista. Nel senso che tu qualsiasi esploat in altri campi che decidi di fare, si porta dietro un pregiudizio. Quindi la gente ti guarda male, come prima cosa. Quando ho scritto il primo libro, quando ho cominciato a lavorare con il design, qualsiasi cosa che esulasse dalla mia categoria, che era proprio quello di fashion influencer, quindi legato alla moda. C'è sempre stato questo muro respingente all'inizio, che però ho scoperto, l'ho odiato per un sacco di tempo, questo pregiudizio, e ho imparato follemente ad amarlo. A convinerci. No, sai perché? Perché ho scoperto che nel momento in cui tu fai qualcosa, partendo da un grande pregiudizio, c'è anche un'aspettativa molto bassa. Quindi se fai anche una cosa minimamente sopra la media, sei un genio. Da un sei e mezzo, diciamo. Se avessi scritto quel libro, che all'inizio è stato detto, è il libro dell'influencer, poi l'hanno letto ed era oggettivamente un romanzo, e quindi è diventato un romanzo bellissimo. Magari sarebbe stato un romanzo carino, senza tutto il pregiudizio. Insomma, se lo leggi ti rendi conto che c'è un pensiero dietro, è tanto. Darti una definizione è un piccolo scudo, che ci mettiamo e ci mettono, anche per capire chi hai di fronte. Quindi se adesso sono diventato quello che scrive lo scrittore, mia madre è felicissima perché finalmente sa cosa dire alle amiche e cosa faccio, perché è una definizione. Ma anche quella mi dà fastidio di scrittore, perché ti toglie la possibilità, per esempio, dal libro, adesso il film lo sto trasformando in un film, ed è un altro mondo in cui io arrivo, dove sono già stato perché parto come attore, ma ci arrivo con una veste diversa, e devo sgomitare, devo dire, ok, sono qui, questa è la mia idea, la porterò avanti, che ti piaccia oppure no. E questo è il film? Allora, questa è l'etichetta? L'altro non l'ho ancora mai detto. Questo è bel, proprio, infatti, boh, mi ha lasciato un attimino così. Sì, e farò il regista di questo film. Quindi me l'ho sontenuto perché nel momento in cui lo vendiamo alla produzione, ce ne sono due, adesso che stanno un po' sgomitando, l'opzione sine qua non è che io voglio fare la direzione, solo di questo. Quindi loro, fondamentalmente, tempo fa ti è arrivato una proposta per acquisiti diritti. Sì. Tu in quel caso, chiaramente, l'esame stace, tu avresti perso qualsiasi... Sì, ma di solito un autore non ce li ha, lo scrittore non ha quasi mai diritti. Io da subito avevo questa cosa, sensazione, quindi al primo contratto con Mondadori ho detto guarda, vi lascio queste altre cose che non mi interessano, magari prendo meno soldi, c'è un anticipo di solito sui libri, però mi voglio tenere il 100% dei diritti del film. Non tanto perché all'epoca non pensavo di farlo io, ma perché essendo una storia così strettamente legata alla mia esistenza, avevo paura di come potesse essere trattata, quindi è stato più una cosa difensiva. Allora, però su questo poi approfondiamo dopo, perché non ci giochiamo qui le domande. Vai, vai, Ale. Solo per mia curiosità, quindi lo vedremo nelle sale tra... Secondo me... No Paolo, non dirlo. Non si può dire, perché sono tempi che non dipendono da me. A parte che sono tempi, ma poi comunque... Però lo vedremo nelle sale. Per una questione di scaramanzia, glissiamo. Poi adesso anche lì è tutto cambiato, nel senso adesso ci sono varie formule per cui escono i film. Ci sono quelli nelle sale, oppure ci sono quelli che escono sulle piattaforme Netflix, Amazon Prime, tutti questi qua, e quelli che escono in contemporanea. Festival, cinema, sale e piattaforma. E penso sia una strategia, cioè una decisione della produzione. Sì, ma è recentissima questa cosa e tutti pensavano, se lo facciamo uscire in contemporanea sulla piattaforma nessuno andrà al cinema. Invece hanno visto che non cambia assolutamente niente. Sono fruitori diversi, tra l'altro. Sono fruitori diversi. È un po' come quando noi... Il cultore del cinema rimane il cinema. Esatto, esatto. Tra l'altro, spesso noi durante la prima stagione con Giulia, che è la nostra autrice, magari ci dicevamo, dividere in pillole per esempio il podcast o magari la puntata intera su YouTube. E lei, diciamo, dal suo lato ci ha detto, chi guarda la puntata per intero o chi ascolta le pillole su Spotify sono fruitori completamente diversi. Uno non cannibalizza l'altro. Brava Giulia. Brava Giulia. Bacetti. Però bene, bene. Mi hai destabilizzato, ma è stato... No, ma questa cosa appunto della definizione è una roba che proprio io ce l'ho dentro di dover combattere questa definizione. Per questo, per esempio, stasera io non sono vestito da scrittore, perché è uno scrittore che va... No, ti assicuro, c'è proprio ancora una categoria. No, aspetta, scusa, mi aspetta. No, 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 aspetta. Passo come un coglione. No, non è vero. Ti fermo. A me piace. Ti fermo, sai perché? No, aspetta. Ti fermo, sai perché? Perché purtroppo per molto tempo... Ora, ecco, entro in quella fase che ti diceva Ale, Frank... Per molto tempo la narrazione ci ha spiegato che lo scrittore doveva essere quello radical chic, con il pantalone sulle Clark che scendeva, la giacca lunga che copriva le nocche delle mani, però c'è stata un'evoluzione. Ma non così tanto, nel senso c'è ancora tantissimo uno stereotipo su come ti vesti rispetto al ruolo che hai, ed è una roba molto limitante e io purtroppo c'ho proprio una idiosincrasia con quello che mi viene imposto. Io ero affascinato invece che stavi aprendo un portone, sempre per rimanere in tema, sulla tua casetta. Sì. Ed è bello, infatti volevo sapere un po' dietro la scena su come si può riuscire a customizzare, vogliamo dire così, una casa ai giorni d'oggi, giusto? Perché è anche un nuovo modo di comunicare per i brand che si sono associati, no? Io ho fatto architettura, quindi partivo già da una base di grande interesse sull'argomento. Tra l'altro, figlio d'arte? No, 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 mio padre è ingegnere e tutti i miei fratelli sono ingegneri. Ah, è vero, tu sono tutti ingegneri. E non capisco niente di design e architettura, vorrei sottolineare, li saluto tu. No, perché c'è sempre una consulenza ogni volta che devono comprare, un letto, un divano, che colore faccio le pareti. Ma tu hai cominciato a fare architettura? Io sì. E sei arrivato a un esame dalla laurea? Sì, sono arrivato alla fine e poi c'è stata una disavventura, chiamiamola così, nel senso invece di andare a fare l'ultimo esame ho fatto un provino. Ah, era quello di amici? Ed erano 32.000 persone e ne prendevano due di attori. E io non so com'è successo. Ma tu già facevi recitazione? Io no, non facevo assolutamente niente. Io stavo facendo un... È assurda sta cosa. In questo gruppo di architettura ci avevano selezionati e facevamo un giro nelle varie capitali europee per fare lo studio degli impianti museali. Tra l'altro avevo una media altissima, ma proprio schifosamente alta. Perché studiavi? E mi veniva molto naturale, una roba molto mia. Studiavo, sì, perché l'architettura è una facoltà famosa per fare le notti. E mi ricordo queste notate a disegnare ancora. C'era CAD, ma c'era l'autocad, ma c'era anche... Facevamo ancora le tavole acquerellate. Cioè perché ero a Firenze dove c'era questo professore meraviglioso, si chiamava Maestro, e ci faceva acquerellare tutte le tavole. Era bellissimo. E comunque c'è stata tutta questa cosa di architettura. Io ho molto fissato su questa roba. Questa cosa mia madre ancora... Vabbè. Gliela possiamo dire ora. Ma lo sa, non mi ha parlato per mesi. Praticamente vado a fare... Vado a Roma, perché avevamo questo workshop a Roma, e fuori da Cinecittà vedo questa fila infinita. Vuol dire che dallo studio, che sono... Non so se mai avete visto. Cinecittà sì. Certo, certo. Usciva, faceva tutto il giro delle mura. Io sono stato undici ore e mezza in fila, ma mi sono messo in fila senza sapere cosa fosse. Cioè, io mi sono messo in fila. Avrei chiesto l'anno. Alla terza ora ho detto, ma siamo qui per cose esattamente. Tu ti sei fermato e non te lo so spiegare. Io ho detto, io devo stare in questa fila. C'è una forza dentro di te. Io mi sono proprio, perché avevo un maggiolone blu. parcheggio e mi metto in fila. Aspetto undici ore e per selezionare due persone da 32.000, i primi provini erano a schiere di 100, dove tu uscivi, ti facevano una domanda, rispondevi la domanda e di tutti i 100 dicevano, ok, rimani tu e tutti gli altri via. 8, 9, 10 volte. Cioè, era una roba... E io dicevo, ma... Cosa giudicheranno mai? Esatto. Anche perché erano molti molto preparati. Chiaro. Poi sono arrivato a questo provino e c'era che aveva portato Chekhov, lo ziovania, c'era che aveva portato Shakespeare. E io arrivo lì davanti. Ma cosa hai preparato? Io ragazzi mi sono messo in fila. Cioè, mi piaceva proprio questa fila. Ok. Un po' così c'era anche Maria. Hanno pensato che tu li stessi prendendo per il culo. No, no, io ero serissimo. Cioè, ero proprio... Però faceva un po' ridere, si vede, perché io ero anche un po' dispiaciuto di non aver niente. E fa, ma raccontaci qualcosa. Allora, io praticamente racconto... Ho detto, guardate, io ho avuto sei mesi fa un incidente in macchina. Sono andata appena nella mia ragazzina dell'epoca, che abitava leggermente fuori Forlì. Io vengo da Forlì. Tornando, io avevo 18 anni, quindi avevo la patente da... Fresca, fresca. Freschissima. E praticamente volevo fare gli abbaglianti. Tu pensavi... E quindi cercando gli abbaglianti... Io sono andato dritto, però in realtà non era colpa mia. Perché all'incrocio uno ha voltato senza darmi la precedenza. Io neanche ho neanche frenato, quindi frontale, le macchine capovolte, di cui una prende fuoco. Io che spacco il parabrezza per tirare fuori questa poverina, che poi non mi ha più voluto vedere, giustamente. Niente, illesi. Ragazzi, neanche un graffio. E ti giuro, la gente è venuta lì per vedere chi era morto. Perché... Botto le macchine distrutte. Però in queste situazioni comunque arriva la polizia, ci mandano l'ambulanza, ci mandano tutte queste cose e ci devono portare di prassi in ospedale. Forlì è molto piccola. Questa cosa fa il giro molto veloce, tutti lo sanno, no? Quindi quando noi, essendo leggermente fuori Forlì, arriviamo nell'ospedale di Forlì, io mi ricordo che siamo arrivati in ambulanza e vedo la vetrata con dietro tutti i miei amici. E io dico, Dio ragazzi, ma io quanto sono amato, ma che bella è la vita, no? E quindi, in questa esplosione di gioia per essere salvo e pieno di amici, corro verso i miei amici, proprio per abbracciarli tutti. E la porta dell'ospedale mi si chiude così e mi spacca la macella. Operato d'urgenza, ti giuro. Cioè, la scena poi è terribile, perché la fotocellula non ha preso le porte, quindi si è fermata così, io ho sentito clock, ma è rimasta ferma. Quindi c'erano tutti i miei amici così, che rimangono così, in questo attimo di silenzio, arriva la barella e mi portano a... Cioè, ragazzi, quindi io ho raccontato questa. E ancora adesso, quando c'è il cambio di tempo, fa clock clock. La cosa è divertente, quindi io ho raccontato questa roba e tutti si sono messi a ridere, compresa Maria, questo è simpatico, è di qua di là. E quindi racconto questa storia, si stacca un faretto, eravamo nello studio di Buona Domenica, si stacca un faretto e cade tipo a dieci metri da me, con tutte le scintille così. E io, non so come, ma con una freddezza, così lo guardo, guardo Maria e gli dico, ti conviene prendermi? E dopo sono entrato. Però non ho detto niente ai miei, quindi la parte brutta arriva adesso, perché praticamente... Poi tagliate, perché qua ragazzi... No, vai, vai, tranquillo. Dopo quanto te lo comunicano che... No, lì è stata una settimana di provini, quello era l'ultimo. Anzi, no, io pensavo non fosse neanche l'ultimo, poi sono arrivato a quello dopo e mi mettono un microfono. C'era questo autore, si chiamava Chico Sfondrini. Dico, ma perché è il microfono? Eh, fa, perché voi siete dentro, siete il gruppo che è entrato, solo che non ve lo possiamo dire perché voi non potete parlare fuori. E quindi io ho dovuto chiamare mia madre. E la chiamo e dico, mamma, c'è un problema. Molto grande. Sì, il problema è che lei era ancora convinta che io fossi in aula e che non avessi accettato tipo un 18. E lei non ne poteva più col fatto che io volessi solo 30. E quindi ho detto, senti Paolo, prendilo, anche un 18 prendilo, te lo giuro, non ne posso più, prendi sto 18. Ho detto, senti mamma, no. C'è un problema. Secondo me, se accendi su canale 5 è meglio. E butto giù. Nel momento in cui entra a far parte della scuola Paolo Stella. Quindi lei ha visto questa scena. E mio fratello ha... Mi ha raccontato che è tipo svenuto davanti alla tv urlando Che è rimasta una cosa in casa mia. Quando c'è qualcosa che non va, la frase è dalla De Filippi no. Comunque è stato per me il primo passo nella vita in cui ho deciso io cosa fare della mia esistenza. Quindi per me è stato fondamentale. Paolo, prima ci stavi già spoilerando un po' qualcosina sulla tua meravigliosa casa. Sì. Quando è che hai capito che la tua casa poteva essere anche aperta a tutti? Allora, è nato perché ho lavorato tanti anni appunto come influencer nel mondo della moda. Sì. E dicevo, ma perché il mondo del design non ha questo tipo di approccio anche comunicativo? Il design è un mondo molto più snob di quello della moda. E' molto egoriferito. Quindi sono designer che parlano ad altri designer. E oltretutto c'è un tipo di comunicazione molto legata all'esposizione del prodotto. Sì. Invece è l'unica forma d'arte esistente al mondo. Per me il design è un'arte da vivere. Che cambia con la vita delle persone dentro al design. E quindi ho detto, avevo questo progetto da un sacco di tempo. Ho detto, è vero che l'influencer si cambia la borsetta o piuttosto che... L'abito comunque tutto. Ed è facile. Non è così facile cambiare un divano, per dire. Che sono oggetti con una durata temporale diversa da quella che può essere quella della moda. Però sarebbe divertente. Mi piacerebbe provare a raccontare ogni sei mesi. Ho una casa abbastanza grande. Rifarla completamente ogni volta con un nuovo architetto, un nuovo design e un nuovo brand. E raccontare dei brand. Perché ho scoperto facendolo che noi in Italia abbiamo fra i più grandi brand del design mondiali. Cassina, B&B, De Padova, Boffi, Castel... Ce ne sono tantissimi. E la gente non conosceva... E questi sono veramente molteni. Sono nomi che, come dire, nella moda, Armani, Gucci, Prada, questi qua. E nessuno li conosce nessuno. Quindi io sono andato dai vari brand e ho detto, io faccio questo progetto. Ogni sei mesi distruggiamo la casa, la rifacciamo, la riarrediamo completamente e facciamo vedere non tanto com'è il divano, ma tutto quello che può nascere attorno al divano, attorno a una cucina, attorno a una sala da pranzo. Quindi se io ti parlo della cucina, non ti faccio vedere tecnicamente che quelli ci sono tutti i siti per approfondire quali sono le qualità tecniche di una cucina e non è un luogo da social network. Si chiamano social. Voglio vedere la socialità che avviene attorno alla cucina. E quindi per la cucina ho organizzato una serie di appuntamenti con degli chef che venivano a cucinare, a insegnarti come si cucina piuttosto che cena. Abbiamo fatto un sacco di serate, adesso c'è questo Sunday Stella che la domenica è totalmente a caso. Io non so mai chi viene. Viene e si vive la casa. E questo qui ha portato una comunicazione completamente diversa al brand di design. Il fatto è che è nato tutto. Io avevo portato questo progetto a una serie di brand e tutti i brand mi dicevano, sai, è un bellissimo progetto, però molto complesso per il fatto che i budget sono un decimo di quelli della moda e per la comunicazione il budget nel settore design viene attribuito all'80-85% alle fiere tipo il salone del mobile che sono investimenti enormi per i brand. Il resto ci rimane per fare i cataloghi, per fare i lookbook di quello che... Avevano diviso così, diciamo, le spese. Sì, non c'era proprio il budget necessario a investire sul digital. Poi è venuta la pandemia, con tutta la difficoltà del momento, è saltato il salone del mobile. Quindi io, in un momento di grande disperazione, stappavo champagne. Perché io dico, adesso cosa mi dici che c'è quell'85% di budget? Sono andato dai primi e tutti mi hanno detto di sì. E da lì c'è stata una lotta per entrare a far parte di questo progetto. Devo dire che il primo che mi ha dato credito è stato Roberto Gavazzi di De Padova, che è una... I boffi De Padova hanno dei mobili che sono una roba meravigliosa. e il fatto è che rispetto alla moda, dove ci sono tanti fondi e quindi ci sono tantissimi passaggi prima di fare un progetto, io faccio tanti progetti creativi dove non mi vedi, ma con il brand. Qui, se tu convinci il proprietario, è molto difficile perché a volte il proprietario non c'ha neanche Instagram. Quando gli spieghi quella cosa e lo convinci, dopo un quarto d'ora firmi e fai. Ed è successo così. Sono andato, abbiamo parlato, un uomo meraviglioso, e devo dire che tutti quelli con cui ho lavorato sono stati... Anche lì c'è stato un forte pregiudizio all'inizio, ma poi anche con Piero Lissoni, che è un mostro sacro dell'architettura, con Palomba Serafini, però loro erano già amici, quindi è stato più facile. Comprendevano già meglio le dinamiche. Sì, ma noi abbiamo un sacco di esperienza di vita insieme, quindi vedevano che c'era qualcosa. Quindi erano molto più propensi. Sì, ma con tutti gli architetti, poi che adesso sono gli architetti che mi scrivono dicendo o i brand. E fra l'altro adesso, perché il 20 di novembre, buttiamo giù tutta la casa e la rifacciamo. Ma per buttare giù intendi proprio anche a livello strutturale? No, ho aperto una camera una volta, ho cambiato la cucina, quindi sì, a livello strutturale sono lavoroni. La maggior parte dei volte c'è o un cambio proprio di struttura della casa, quindi ho spostato la sala da pranzo in un'altra sala, di tutti i mobili. E in questo caso verranno rifatti anche tutti i colori e tutte le carte d'apparati di casa. Sarà un intervento bello grosso. Parallelamente a questo... Che ti obbligherà ad andare fuori? No, è qui la cosa, è che io devo stare dentro. Perché la narrazione social prevede che tu viva. La gente vuole stare con te a vedere, mentre tolgono il pavimento e ne mettono un altro, mentre spostano, mentre dipitturano. Quindi io proprio vivo, e questo è comunque un'esperienza... Infatti sono single mica per niente, perché non ho certo. Dopo sei mesi, ogni sei mesi fai questa vita, la gente dice ciao, bello, vivi da solo. Triè. Triè. Questo è, questo è un appello... Accorato. Una persona che ogni sei mesi si fa un viaggio. E poi praticamente la cosa che a me diverte molto, che aside alla trasformazione di casa, che è il grande progetto editoriale, io produco delle delle collezioni. Quindi è una collezione di tappeti, è una collezione di carte da parati. Ho fatto questa collaborazione meravigliosa con Ginori, che è un brand che amo. È stata un'esperienza stupenda, che ce ne saranno altre. L'accessorio casa è un'estensione. Cioè se ti piace il bello, come magari una bella giacca, la casa quando poi la vivi, o sei anche solo, e ti capito di stare solo in casa, deve essere un piacere. Io quando guardo, ieri guardavo ad esempio una collezione di vasi, di Missoni Casa, no? Che comunque a me piace molto quella situazione, anche devo essere onesto. Perché citi questa cosa? Ti vedo tutto. Ti piace anche te, no? La prossima casa è tutta Missoni Casa. Questo tagliamo non lo posso dire. Allora niente, ok. Bene. Però guardavo questi vasi giusto per... È una roba pazza. Sì, stiamo facendo delle robe che non avete idea. C'erano dei vasi lì che toccate, sono veramente fighi. Sì. Questi quasi così. Ma per dire, lì c'è proprio un lavoro di collaborazione che io, ecco qua, la moda quando è applicata al settore casa... Ma possiamo dirlo? Perché quando Paolo andrà in onda... Ah, è vero? Sarà già. Ah, perfetto. Sì, sì. Possiamo lasciarlo. Che meraviglia. Allora, mi sono in casa. Ed è la prima volta che io ho approcciato un brand della moda che fa anche tutto il settore casa. Ok, ok. Perché c'è un problema. Il design è stra, stra, stra snob. Quindi un grandissimo architetto internazionale mi ha detto una grande frase. Ha detto, guarda, tu hai fatto questo progetto che ad oggi è unico al mondo, nel senso non l'ha fatto nessuno, tant'è che poi eri su tutti i telegiornali di qua e di là, ma ti dico una cosa. Tu hai iniziato e stai facendo solo i top, top brand del mondo che sono molto pochi. Nel design, se tu scendi di mezzo gradino, non salirai mai più. Quindi prima di approcciarmi... Sì, sì. Sono estremamente snob e io amo questa cosa perché proprio è uno snobismo legato a una grandissima qualità. Quando ho scelto Missoni, perché uno ho visto le produzioni, due l'Heritage, mi fanno anche tutto l'archivio e c'è una collaborazione e un capire questo mondo che mi aiuta tantissimo nella comunicazione. Quindi a un certo punto, per esempio, abbiamo creato degli scenari e mi hanno permesso, insieme ad Alberto, che è appunto l'art director di tutta la parte Missoni Home, di disegnare un tavolo che è una roba enorme di marmo che sembra fluttuare nel niente. Quindi abbiamo costruito tutta una stanza solo per questa lama di marmo, fra l'altro di un marmo... Che si sorreggi su cose. E lo vedrai. Ok. Ti invito a cena. No, fra l'altro di un marmo in queste cave di una ragazza che si chiama Fiammetta Fantastica in esaurimento. Quindi ci sono dei materiali che poi non esisteranno più nel mondo. Quindi loro di base non lo venderanno? Lo venderanno per le ultime lastre. In serie limitata. È tutto... Però capisci la preziosità che c'è. La mia domanda è qua, visto che cambia ogni sei mesi, no? Sì. In realtà io le prime volte lo sapevo, ora non so se poi in effetti continua così. Cioè i pezzi che poi, dopo i sei mesi, devono ritornare in azienda, se non sbaglio, tu le prime volte le mettevi quasi all'asta, cioè venivano venduti, vero? Dipende dalle volte, dipende da come vuole l'azienda. Perché, ripeto, il mio non è una roba... Non è quel tipo di progetto per cui l'azienda mi regala qualcosa e io lo taggo. Io non posseggo queste cose. L'azienda tutte le volte mi chiede vuoi tenere un pezzo? Tutte le volte io tengo qualcosa, soprattutto i pezzi iconici. Certo, certo. Delle grandi cose. Ho un altro deposito, cioè una specie di seconda casa dove ci sono tutti i mobili che sto accumulando tipo sepolti in casa. Ma perché amo tantissimo quelle cose. Poi dipende. Ci sono aziende che li riprendono e aziende che mi dicono vuoi fare una vendita Instagram? E io, devo dire, amo molto. Perché... La gente risponde bene? Risponde benissimo. Perché comunque il design è inaccessibile a tantissime persone. Tu lo rendi leggermente più accessibile perché ovviamente vengono venduti come i pezzi da showroom in esposizione, quindi con un forte sconto. E quindi dare la... C'è un sacco di gente che mi ha detto sai, grazie a questo progetto io adesso almeno non posso avere tutta la casa B&B però ho il tavolo, ho una poltrona, ho una cosa e spesso un solo pezzo giusto ti cambia la casa. Ti cambia la casa. È vero, è vero, è vero. Ti cambia la casa. Ma scusa, ma tu hai mai pensato, visto che c'è questo progetto che ogni sei mesi cambia, di chiudere le porte e dire basta, mi riapproprio totalmente della casa e dei miei mobili. Cioè ti è mai passato? Così magari ogni sei mesi non devi cambiare. Ma prima o poi finirà questa cosa, però in realtà si sta sviluppando perché comunque col fatto che ho preso questo terreno in Sicilia ci sarà suonare stella mare perché comunque è tutto... Cioè il design ha tantissime facce, c'è l'outdoor che è una roba pazzesca e io giustamente a Milano non la potevo fare quindi si sta evolvendo. Io non ho un attacco viscerale alle cose, ho un'enorme attrazione per quello che è bello quindi cerco di circondarmi da cose belle. Poi non è che il brand viene e decide lui come fare e io sto zitto. È sempre un grandissimo scambio. Le cose che mi piacciono di più io oggi vengo da otto ore di riunione con Missoni in cui appunto abbiamo affrontato qualsiasi tipo e c'è uno scambio con Alberto incredibile, meraviglioso e quindi ogni volta mi riapproprio di una casa che è mia, che io sento assolutamente mia perché viene pensata e ideata secondo le mie esigenti. Ho imparato una cosa in realtà con questo progetto che in base a come tu arredi la casa la vivi in modo completamente diverso. Quindi l'importanza del design come dici tu questo periodo ci ha fatto proprio capire cioè la casa è più di un oggetto che ti veste è il tuo nido il tuo siamo in un momento storico molto difficile molto pauroso che se tu guardi quello che succede fuori hai paura la casa assume un valore completamente diverso un po' di tempo fa noi quando eravamo piccoli non è che avevamo paura che ci scoppiasse la guerra in casa o che non arrivassimo adesso è talmente angosciante tutto quello che è presente è dietro l'angolo che la casa diventa proprio un fattore curativo della tua psiche tu hai bisogno di qualcosa in cui ti chiudi e dici ok questo è il mio posto sicuro allora passiamo a un altro capitolo perché con Paolo si va a capitoli e ogni capitolo è diciamo ha una nuova connotazione professionale non parliamo di etichette no 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 allora abbiamo prima l'ambito la tua fase di scrittore si ad oggi se non erriamo i libri pubblicati sono quattro si allora qua tocchiamo un argomento delicato poi deciderà Paolo se scendere o meno va bene scenderò te lo dico già sicuramente perfetto perfetto allora il primo libro si mit me alla boa si nasce da un'urgenza emotiva o no totalmente ma infatti non è stato pubblicato per sette anni non perché qualcuno non lo voleva pubblicare perché io non l'avevo mai proposto a nessuno nel senso per me la funzione di quel libro era salvarmi la vita semplicemente è stato in un momento in cui avevo una grande confusione e un un lutto da elaborare e per me l'elaborazione per vari motivi è avvenuta tramite la scrittura però una volta che io avevo assolto a questa funzione non ho pensato lo porto a un editore perché quello che doveva fare per me l'aveva già fatto quindi è stato sette anni ma tu lo avevi lasciato lì tra l'altro se non sbaglio compariva nel tuo blog no allora è successo tutto questo io ho avuto ho avuto questa relazione con si chiama Francesco una persona meravigliosa che mi apre un blog e in questo blog ma non ho anche capito perché me l'ha aperto cioè io all'epoca facevo l'attore di fiction discutibile però io intanto vedo capita capita la cosa terribile e questo voglio darlo come suggerimento a tutti voi voi potete fare tante cose belle nella vita ma se ne fate una di merda le repliche ci saranno finché morite ve lo dico tutti gli anni a Natale adesso ricominciamo tra poco a Natale e tutta l'estate va bene e io quindi ogni rete 4 i bellissimi mi trovate però era questo periodo di fiction e io innamoratissimo di questa relazione di questo ragazzo era veramente tutto perfetto e lui il 14 agosto mi ricordo che eravamo in vacanza in Maremma in questa casolare con 10-12 amici si avvicina e mi fa io ti ho aperto un blog e ho detto ma non sapevo neanche cos'era il blog dal 2011 cioè per dire proprio non esistevano in Italia stavano arrivando stavano arrivando c'era qualcosa in America ma Chiara non aveva anche aperto si si a 2011 per dire che la blogger più famosa adesso tutt'altro però ha cominciato come blogger super famosa la Chiara Ferragni e quindi mi apre sto blog e io dico ma perché gli fa no perché io da come tu mi scrivi messaggi secondo me tu devi scrivere era un blog solo di scrittura non moda queste cose qua e ha detto non mi serve un blog ed è stato l'unico post che ho fatto chiuso il blog poi la nostra vita è andata avanti dopo tre settimane si addormenta e non si risveglia più a 28 anni un aneurisma celebrare quindi una roba che ti manda completamente fuori di testa e ti è crollato il mondo sì neanche cioè proprio non avevo non sapevo più dove guardare fra l'altro è stato tutto terribile perché comunque averlo scoperto doverlo dire c'è stata una serie di cose che ho detto se supero questa cosa vinco vinco quindi è successo a Parigi gestisci la famiglia i genitori i miei amici queste cose si ritorna si fa il funerale un sacco di cose la mia migliore amica mi porta dopo questo dieci giorni assurdi a New York una settimana per staccare torniamo tra l'altro New York sono successe delle cose che veramente dici infatti il secondo si chiama per caso perché il caso non esiste perché era troppo tutto quello che succedeva comunque torno ho la fortuna di avere degli amici veramente molto stretti molto attenti e quindi per il primo mese mi chiedono mi dicono dormiamo con te perché abbiamo paura che tu possa fare delle cavolate perché ero un po' sconvolto in realtà non ho mai non è il mio indole neanche pensare la faccio finita in qualche maniera semplicemente non mangiavo e non dormivo e non pensavo fosse possibile cioè io ho passato un mese e mezzo senza dormire neanche un minuto andavi in giro no io mi stendevo e guardavo questo soffitto che l'ho imparata a memoria cioè ogni minima crepa abitavo ancora a Roma e guardavo in alto ho perso 10 kg il primo mese perché non mangiavo bevevo un po' di acqua ogni tanto io stavo benissimo cioè ero pieno di energia e tutto ma non mi permettevo di vivere dopo questo mese dico però ragazzi qua io devo andare avanti in qualche maniera devo andare avanti il mio modo per andare avanti è comincio a riprendermi la mia vita quindi voglio dormire da solo se avete paura mi mandate un messaggio tanto io non dormo vi rispondo e state tutti tranquilli la prima sera che dormo da solo sapendo che non avrei dormito ho preso il computer e ho detto guardo qualcosa su youtube passo il tempo in qualche maniera ho aperto il computer per la prima volta e si è aperto sulla pagina bianca di questo blog che io non avevo mai aperto io mi ricordo solo questa schermata bianca e questa linetta così quindi io comincio a piangere dico vabbè io credo tanto ai segni del destino qua mi sembra proprio tu che mi dici io non ti ho potuto salutare cioè ti ho detto buonanotte ma non ho mai potuto dirti buongiorno e qua io ti dirò quello che è stato e posso dirti quello che che sto provando e quindi senza minimamente pensare di pubblicare che qualcuno leggesse mi ricordo che quella settimana ho passato tutte le notti a scrivere come mi sentivo a lui ciao Francesco oggi è andata così ed erano come se fossi quadri polare persone diverse quindi c'era la sera che ero disperato la sera che ero innamoratissimo ma anche la sera che ero incazzato come una bestia che dico ma come cazzo di perfetti a distruggermi la vita è stato una cosa estremamente personale dopo una settimana la mia mailbox bloccata perché erano arrivate migliaia di lettere di gente che era arrivata su sto blog non so perché come è arrivata perché io non sapevo usare i blog praticamente nei blog all'inizio se tu correggevi qualcosa nel draft nelle bozze lui me lo pubblicava quindi io avevo pubblicato tutto senza saperlo senza saperlo quando ho cominciato a vedere queste mail che erano tutte di gente che aveva perso il marito la moglie il figlio la nonna c'è stesso qualcosa tutti che mi dicevano io sto vivendo insieme a te questo periodo aiutami e tu non capivi come mai io ho avuto il primo e unico attacco di panico della mia vita sono completamente nudo quindi attacco di panico cancellato tutto e mi dispiace un sacco perché adesso avrei voluto rileggere quello che succedeva in quei giorni e ho avuto tre giorni di blackout totale che non ho più risposta nessuno mi sono chiuso in casa poi dato che credo molto ai segni dico ragazzi però è troppo assurda questa cosa che sia successa e anche che tutta questa gente sia stata così attaccata a questo momento e possiamo vivercelo insieme e ho detto ok allora probabilmente la mia elaborazione di tutto quello che sta succedendo è scrivere a questo punto sapendo che c'è qualcuno che legge ma io farò ogni giorno una pagina di diario dove nei giorni che sono più bui più neri più spaventosi della mia vita il mio compito è trovare una piccola cosa bella al giorno avevo solo questo compito quindi avevo questa roba ogni giorno erano robe veramente inizialmente un bambino che passa per strada ti fa ciao con la mano mentre la mamma non lo vede è un momento bello è stupendo fra l'altro me lo ricordo ancora quel bambino e niente e ho cominciato a scrivere e ho scritto per un anno e mi sono reso conto che quando tu ti imponi di accorgerti del bello che è attorno a te il bello si accorge di te e sono stato invaso da talmente tanta bellezza che dopo un anno di questo diario ho detto ragazzi io respiro sono tornato a respirare ho ripreso la mia vita perché oltretutto quel blog lo leggevano dei direttori di giornali che poi mi hanno perché sono arrivato così alla moda mi hanno chiamato a scrivere per i loro giornali delle rubriche prima è stato L e quindi dopo un anno dico ok ragazzi io mi sono salvato la vita ragazzi sempre me lo dicevo da solo perché a chi lo dici ho trasformato il blog in un libro il blog in un libro che era un grande flusso di coscienza di questo primo anno chiuso proprio con l'idea mi sono salvato la vita messo via dopo sette anni vado a una cena per n ragioni e perché poi è iniziata la moda Instagram è arrivato anche il mio Instagram è iniziato per quello era abbinato al blog cioè ogni giorno io fotografavo una cosa bella ed era l'unico compito che aveva per me Instagram cioè mai pensato potesse essere una cosa lavorativa commerciale che aveva avuto altri avevo solo quell'obiettivo dopo sette anni diciamo che la moda è andata molto bene e ho cominciato a lavorare tantissimo ho aperto anche una società che fa produzioni e creatività bla 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 arrivo a questa cena di fianco a me c'era questo signore della Mondadori che mi fa senti io ti odio iniziamo bene iniziamo bene perché mia moglie tutte le sere andiamo a letto mi costringe a vedere tutte le tue storie tu ne fai in peggio di una serie di Netflix e io tutte le note sono là a assorbirmi però mi ha convinto che tu potresti essere un caso editoriale interessante ti va di fare quattro chiacchiere il giorno dopo vado a fare queste quattro chiacchiere che erano in realtà e non porti tu il libro no 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 io non so quattro chiacchiere mi dicono semplicemente guarda ci piaci come personaggio noi ti mettiamo un ghostwriter che scrive un libro e poi spesso succede vai in giro lo proponi lo fai la promotion e dici che è il tuo libro questo non lo potrai mai fare anche perché appunto ho scritto tanto blog la gente sa come scrivo ho uno stile non dico ne bello ne brutto ma riconoscibile il mio stile però se volete io c'ho qualcosa ho scritto un libro sette anni fa io vi giuro che pagherei per avere la faccia di quello che proprio dice oh madonna il libro dell'influencer pensando che potessero essere non so i consigli di come vestirsi a Natale e quindi vedo questa faccia delusa oltretutto con un cambio emozionale veramente espressione incredibile per me tu sei il personaggio del momento a comunque l'editoria in crisi lo sai anche tu sì ma cinque minuti fa come era Florida e quindi cercavo di mettere un po' le mani avanti e quindi hanno detto senti facciamo una roba te lo facciamo te lo leggiamo fra due tre mesi ti diciamo in realtà la mattina dopo alle sette trenta mi chiama questa persona e fa senti ti devo chiedere scusa uno per l'orario ma ho finito il tuo libro adesso e due per il pregiudizio perché io tu te l'avevi mandato tramite mail ma oltretutto io i libri scrivo nelle note del telefono quella robina gialla non ho nessun programma da scrittore proprio le cose basiche e praticamente mi fa io ieri l'ho portato alla cena con i miei amici perché volevo leggerlo per prenderti per il culo per ridere no non ci credo certo solo che il mio libro inizia con la telefonata che dice è morto cioè questa è la prima parola è dream e quindi alla cena si è creato il gelo le ragazze hanno cominciato a piangere sono andati via la cena più disastrosa della mia vita ma dal primo capitolo io me lo sono letto tutto fino alla mattina dopo è un romanzo è oggettivamente un romanzo se vieni qui te lo pubblichiamo così quindi è successo tutto in 24 ore ti dico una roba in più che è successa sono andato con Alfonso che è il mio agente sono arrivato in ritardo perché comunque la Mondadori sta a casa di Dio e lì la Mondadori è tipo un altro piccolo mondo e per entrare tu devi dare tutti i documenti c'è il gabbiotto ero in ritardo quindi ho detto guarda vi lascio lui vi dai il mio documento io sono in ritardo Alfonso è arrivato che io ero già in questa riunione con il faldone del contratto con tutte le clausole di qua di là e mi passa il badge il badge il badge della Mondadori cioè ha il tuo nome piccolino e la data gigante io vedo la data e scoppio a piangere perché era il giorno in cui mi viene a piangere anche adesso sette anni prima avevo conosciuto Francesco lo stesso giorno 7 marzo perché il caso non esiste io ho visto quella data e ho detto scusate io non voglio leggere neanche una postilla se volete fottermi potete farlo tranquillamente ma io firmo lo faccio perché è tutto giusto e non ho letto mai quel contratto Alfonso era un attimo perplesso Paolo stai zitto Paolo per favore non è in sé non è in sé ragazzi però Alfonso poverino con me ha subito veramente delle angherie poveraccio però è successo tutto e il libro è andato benissimo benissimo sì e ti dico di più e questo non l'ho mai detto a nessuno quindi vi beccate una cosa un po' importante quando ho scritto il libro quando me l'hanno deciso di pubblicare c'erano due cose io non volevo che il libro avesse una risonanza mediatica di pubblicità per il fatto che la gente potesse dire è la tua storia poverino perché hai perso il tuo compagno è morto il tuo compagno Bordacchiello con cui lavoro un sacco mi ha detto non devi mai più dire che tu hai perso il tuo compagno perché tu non hai perso niente si perdono le chiavi e quelle le puoi anche ritrovare il tuo compagno è morto le parole hanno un sacco di importanza e io dopo sette anni sono riuscito a dire morto e ti assicuro che è una cosa reale giusta era una costruzione mentale che tu facevi è una difesa sono sempre difese comunque praticamente c'era questo problema che non volevo che venisse strumentalizzata la perdita e di là ho anche parlato con la famiglia che è una famiglia meravigliosa ma una famiglia molto privata e quindi mi ha detto preferiamo che non esca troppo la storia perché comunque c'è una grande sofferenza e Giuseppe quindi ho rispettato assolutamente questo discorso e ho trasformato in una storia fra un uomo e una donna quindi proprio un romanzo per staccarlo da me dopo un po' mi è dispiaciuto perché comunque Francesco era tua ma poi il libro è proprio per lui che se lo merita tutto che è una persona incredibile anche la sua zia che era la persona con cui lui si confidava di più mi ha detto è un peccato questa cosa e io sto riscrivendo il libro l'ho detto alla Mondadori non è mai successo il libro il film sarà di una coppia di ragazzi che si chiameranno come noi e sto riscrivendo il libro e alla Mondadori mi hanno detto guarda non è mai successo prima che un libro arriva fino a una ristampa e poi non esiste più esiste un altro libro da quella pagina in poi e lo sto cambiando perché è più vero è più interessante ed è veramente dedicato a lui e lui se lo merita e quindi lo sto per giustizia divina fondamentalmente il prossimo libro sarà Meet me la boa true la verità Paolo prima ti legavi alla questione delicata del coming out e tra l'altro oggi forse è una è un po' più facile no? riuscire a esternare me lo auguro quello che a meno io nel mio piccolo quello che vedo è che anche grazie ai social comunque grazie al lavoro che fate è un po' più facile vorrei solo aggiungere una piccola una piccola info in più che forse anche la comunicazione nella famiglia può essere un aiuto quello è un aspetto super delicato tante volte mi succede di conoscere delle persone che tipo dicono eh ma non glielo sto a dire perché tanto abitiamo lontano gente che magari si è trasferita per studiare o per lavorare non glielo dico perché non cambia io ovviamente sono assolutamente per la libertà se uno vuole dirlo o non vuole dirlo però cambia cioè sei assolutamente libero di decidere come deve essere il tuo percorso come vuoi portare avanti la tua vita ma non illuderti che non cambia perché se tu alle persone che ami ma dalla famiglia agli amici eviti o non vuoi parlare o ometti questa cosa in realtà gli stai tagliando via una parte non è una cosa che non dici non è una piccola parte della tua vita è l'ottanta per cento della tua vita e quindi molti rapporti si sgretolano o molti rapporti non partono non partono anche con i genitori proprio perché c'è questo non poi c'è sempre un gioco malsano fra genitori e figli fra quelli che vorrebbero che i genitori glielo dicono e i genitori che non dicono niente perché aspettano che il figlio faccia il primo passo penso che dovrebbe essere sempre un discorso che parte dal soggetto dall'altra parte ci dovrebbe essere sempre un tentativo di a priori perché spesso all'ottantacinque novanta per cento i genitori lo sanno di un figlio di mettere le di un figlio di una figlia di mettere dall'altra parte un'idea di non giudizio di apertura di anche di essere collaborativi nel processo di diventare adulti diventare uomini e donne e pensavo che fosse meno meno un problema invece è ancora una cosa molto sentita comunque è un è un passaggio che una persona diciamo non prettamente etero perché poi ci sono tantissime variazioni sul tema è un passo che agli etero non è richiesto e che quindi tutta una la comunità lgbt plus 50 nomi che non me li ricordo mai deve fare è un passaggio della vita in più che può essere in alcuni casi molto doloroso ma nella totalità dei casi liberatorio perché comunque ti permette di essere quello che sei spesso il primo coming out lo devi fare con te stesso devi dirtelo devi proprio e quando riesci a forse è quello il più difficile un po' sicuramente perché quando c'hai quella cosa lì che lo sai e che non hai fatto niente a nessuno non hai fatto male a nessuno è solo una delle tue caratteristiche e peraltro è anche molto bella il resto viene viene da sé poi io sono abbastanza irruento nel secondo libro ne ho fatti quattro li ho raccontati tutti perché poi ci sono alcuni coming out che appunto li fai in un momento in cui succede spesso che i genitori pensano sia una fase e quindi io l'ho fatto molto irruento il primo perché ero molto innamorato la storia era molto complicata gliel'ho sbattuta in faccia mia madre ha un po' pianto e ha detto magari una fase e sono andato dallo psicologo l'ho fatto con tutta la famiglia compresi i miei fratelli quando è scomparso Francesco in maniera molto dura perché quindi eri già sui 30 ok no però il primo a 21 ok e l'ho fatto per Francesco che è stato un'altra cosa molto particolare e poi nel secondo libro per caso a un certo punto mi è successo di provare un'attrazione per una donna molto forte e mi ha divertito molto immaginare il mio coming out a mia madre che gli dico mamma sono etero e lei che dice cosa dico ai vicini adesso era tutto il contrario già ho fatto fatica a spiegare il tuo lavoro comunque la mamma è un'icona io la conosco la mamma è un'icona tutti i figli gay lesbiche trans queste cose sono mandati nelle famiglie per aprire a volte le teste perché ci sono delle famiglie che proprio tu dici che ci sia un disegno più grande perché tu finché pensi al gay alla lesbica o al trans e tutte le variabili come qualcosa esterno da te fuori dalla tua famiglia è sempre puoi dire anche lo accetto perché tanto non mi tocca più di tanto quando invece hai una persona che è nata è cresciuta hai visto i primi passi il primo passeggino qualsiasi cosa e fa un percorso e tu dici è una persona è semplicemente una persona con una caratteristica tutto ti sembra diverso a me è successo per esempio con una una mia amica trans che io conoscevo da uomo ok no e noi siamo abituati per esempio con i trans che li vedi come stereotipo la trans che parla un po' brasiliano queste cose qua no vestita con i tacconi super truccato che caldo che caldo sembra di stare a riuscire a nero e non pensi che dietro quella cosa che quella meravigliosa essere umano che è diventato c'è un percorso prima che è pazzesco dolorosissimo impegnativo e per fare un passo del genere veramente devi essere estremamente motivato quindi ho conosciuto questo ragazzo quando era ragazzo e poi non ci siamo visti per un periodo e l'ho reincontrato da donna dall'altro mi ricordo che camminavo a termini stavo andando a prendere il treno e sai quando sei col telefono che non è che guardi vedo quel vedo non vedo da lontano vedo questa donna molto bella e dico la donna che figa con una camminata molto donna proprio mi sono avvicinato e lei mi fa amore ciao e mi abbraccia e io minimamente non avevo capito chi fosse perché ha proprio fatto una trasformazione importante e poi mi fa ero Giuseppe e io ho detto ma non ci posso credere c'è stravolto completamente sì meravigliosa stupenda adesso tu vieni qui a un tavolo con me prendiamo un caffè mi racconti tutto e però avere visto la trasformazione quello che era quello che è e quello che è rimasto ti fa rimasta ti fa proprio capire quanto il nostro è un preconcetto perché poi è un essere umano che fa un percorso un percorso impegnativo bisogna solo essere ringraziarli per quello che ci fanno come ci possono aprire gli occhi e come possono accogliere quello che la vita e la natura li ha portati ad essere comunque Frank questa è la puntata di distruggere i preconcetti incredibili bisogna buttarli giù assolutamente come fosse un muro allora Ale è un po' più piccolino quindi noi dobbiamo dire che sia io che te non siamo più ragazzini ma io sono sì ma io molto più di te no no non lo direi non lo direi però comunque io piccolino perché dentro sono un gen z intendi esatto esatto oggi non lo so se quello che sto dicendo magari può essere confutato però pare che il mercato soffra un po' di quello che viene definito come dice la nostra autrice gentilissima ageism e quindi tende un po' ad allontanare chi supera una certa età molti sono scompari io quando ho cominciato ero veramente un gruppetto e tanti spariscono ma non penso per un discorso di aging è che è un mondo velocissimo e dove devi avere sempre qualcosa da dire il fatto che io cambio lavoro ogni tre anni quindi attore poi fai fashion influencer poi ti scrivi libri poi adesso vai sul design poi adesso vuoi fare il film è una roba che ti rompono le palle però rimane un piano di comunicazione io non ho un piano editoriale non è adesso devo raccontare di questo non sono di quelli che muore questo o c'è quella tragedia adesso devo parlarne per fare è proprio un racconto di di cosa succede nella mia vita ho la fortuna di essere molto curioso e che mi succedono tantissime cose nella vita quindi diventa tutto materiale di comunicazione quel background culturale e poi tu continui a alimentarlo sei una persona per bene e poi sei curioso e allora le cose da dire poi fondamentalmente arrivano noi io e Paolo che più o meno siamo nati nello stesso periodo come ma quanti anni hai scusami tu io fra due anni e mezzo ne faccio 40 vabbè io ne faccio 46 però e non ho mai fatto botox non per dire sono assolutamente pro sì 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 e vorrei ogni tanto provare a farlo faccio degli amici che dicono ma che cazzo fai il botox però alcuni lo fanno a scopo preventivo no allora in realtà anche questo perché tutto quello che mi succede nella vita in realtà diventa un libro a una certa in realtà io non ho mai fatto niente e perché ho avuto una malattia tutto questo perché ho avuto una malattia che è il secondo libro che ho avuto questa malattia genetica che poi c'entra tutta la parte anche dell'affettività senza bisogno di una etichetta di gay straight e quindi non crescevo praticamente ho avuto questo problema genetico per cui non crescevo c'era stata un'altra malattia precedente quando avevo dagli 0 e 2 anni per cui mi avevano imbottito di cortisone il che aveva inibito inibito completamente l'ipofisi quindi non sono che è la ghiandola che se c'è il GH che quindi il cosiddetto ormone della crescita quindi niente mi fanno queste analisi mi mettono in questo reparto di malattie genetiche al Sant'Orsa di Bologna dove voi entrate una volta uscite e non vi lamentate più per tutta la via non mi sono mai più lamentato perché ho detto è vero sono piccolino ma due gambe due braccia due occhi un naso una bocca mi sembra già perché lì dici wow cioè ci sono persone che vivono questa realtà e quindi ero molto piccolo mi fanno queste analisi devo dire bruttissime io ho una una fobia per gli aghi perché ci hanno bucato in tutte le situazioni e in questa cosa scoprono questa mia mancanza di crescita quindi io comunque quando sono andato in primo elementare mio fratello che era all'asilo mi supera in altezza ed è una delle cose più traumatiche per un bambino perché io ero l'unico primo genito a cui il secondo e il terzo genito passavano i vestiti sai che quando hai tanti fratelli ti passi i vestiti avevo quelli vecchi ed ero il primo quindi non funzionava cioè non mi andava proprio comunque i miei fratelli sono molto alti quindi niente c'è stata tutta questa cosa scoprono questa malattia cominciano a bombardarmi cioè tutte le serami iniettavano questi ormoni per crescere che non è servito a niente per un sacco di anni e poi infatti quando andavo al liceo ero il più piccolo di tutti comprese tutte le femmine di tutto il liceo e era proprio una roba diciamo la fissa dell'altezza invece poi inaspettatamente a 17 anni si è tutto esvegliato sì io sono arrivato a un metroottantuno comunque che è una bellissima altezza la normalità solo che poi mi hanno rifatto le analisi a 23 anni e hanno visto che io ero indietro come età ossea di circa 12 anni quindi io il mio corpo è tipo 12 anni meno di quelli che ho che direi è natale di culo da morire cioè da una da una disgrazia incredibile ne è uscito una sì però in realtà lì è successa un'altra cosa dentro l'ospedale che è stata pazzesca del perché ho scritto il libro perché e ci ricolleghiamo a quello che mi avevi chiesto prima però lì ho imparato cosa voleva dire innamorarsi e basta perché tu non sai chi è di fronte io quindi avevo io mi ricordo che c'era questo o questa bambina di colore che veniva dalla Nigeria e diventiamo molto amici perché io sentivo questo respiro ed era l'unica cosa che mi faceva compagnia lì dentro perché a 11 anni ti ritrovi chiuso in quella roba là io mi ricordo questa cosa pian piano nei giorni diventiamo amici mia madre conosce sua madre parliamo ci affezioniamo molto poi a 11 anni non so se si può parlare di amore di queste cose comunque io questa cosa l'ho saputa a 18 anni mia madre mi ha raccontato quando sono stata più grande lì c'è una forma di innamoramento fra noi due l'altro paziente era un ermafrodito che appunto hanno entrambi i sessi che è una cosa che normalmente viene operata addirittura in pancia è una cosa non si aspetta lo sviluppo non so esattamente come funziona comunque c'era il problema specifico di questa persona o generale che arrivato all'età pre dello sviluppo dovevano loro decidere per forza se fare un'operazione in un senso o nell'altro che nell'altro e nel momento mia madre mi ha raccontato a 18 anni in cui questa bambina adesso possiamo dire bambina ha espresso una forma di affettività nei miei confronti hanno detto allora è una femmina perché si è innamorata di un maschietto ok e il libro invece ragiona proprio sul fatto che poi queste persone le ritroviamo a 35 anni e Paolo perché si chiama Paolo protagonista è diventato gay no e dici ma non potevano essere due bambini maschi che si erano innamorati perché noi abbiamo il preconcetto arbitrariamente deciso un maschio si innamora di un'altra cosa è sicuramente di una femmina perché dobbiamo legare l'innamoramento a un genitale perché non possiamo pensare che le persone si innamorano anche delle anime questa bambina però tu hai provato che poi adesso credo sia una donna una donna non hai provato impossibile ritrovarla vero? io ho scritto il libro per ritrovarla l'ultima pagina del libro è una lettera a questa ragazza perché vorrei rincontrarla recentemente ho ricominciato a pensarci quando ho scritto il libro ho detto ma cioè l'idea è stata nel mondo c'è una donna per colpa mia non so come dirti ah ok beh però tu stai relegando non è colpa tua non in quel senso lì però per in conseguenza di un nostro incontro infatti il libro si chiama per caso tanto il caso non esiste perché come facevamo pensa le vite come fanno dei giri assurdi noi due che per problemi completamente diversi lei è adottata dalla Nigeria viene messa nella stessa stanza a fianco a me nel lettino e poi non ti rivedi più per tutta la vita è assurdo questo potrebbe essere un altro film sì oppure la De Filippi che fa una puntata e dice posta per te la trova e la mamma no ma la De Filippi dai mamma stavolta sì dai la scorsa stagione noi abbiamo avuto un'amica mia una grande amica tua che è Cristina Fogazzi non conosco un amico una compagna di Paolo talvolta un amante certo come è nato sono l'amante ufficiale è il compagno lo sa sì sì ma mi ha scritto anche prima ma sì chiude un occhio io sto simpatico senti com'è nato il tuo rapporto con lei è nato in maniera assurda perché l'ho conosciuta che aveva veramente era piccolissima aveva solo la pagina Facebook pochissimi followers queste cose qua era totalmente addirittura era un periodo perché io adoro Cristina e la sua la sua parabola perché è veramente qualcosa di incredibile io all'epoca avevo fondato insieme ad altre quattro persone Lampoon che era un giornale di moda andava benissimo è stata un'esperienza incredibile ancora regna su alcune edicole su alcune lì si sai che c'è il sì perché l'avevano comprare io ero fissato per comprare le edicole forse questo venezio mi pare di averlo visto ma c'è ancora Lampoon funziona il giornale c'è ancora e niente e lì lei praticamente la storia è un po' lunga in realtà noi abbiamo avuto in un momento in cui l'editoria era abbastanza in difficoltà questa voglia di fare un cartaceo e tutti ci hanno dato dei matti e abbiamo detto ok però facciamo questa commistione con il digitale siamo stati fra assolutamente i primi di fare infatti io e Candela eravamo due elementi che normalmente nell'editoria non esistevano abbiamo fatto un sacco di promozione di feste di queste cose qua molto esposte si sono molto viste abbiamo venduto una roba incredibile sia di pubblicità che di numeri del giornale e ovviamente più avevano le critiche no? e se dovevano prendersela con qualcuno here we are il parafulmine sì proprio e allora c'è stato questo o questa o questi che hanno cominciato a mandare delle lettere anonime al direttore del giornale tutto contro di me dicendo ma come è fatta a lavorare il direttore era? Carlo Mazzoni è tuttora Carlo ma come è fatta a lavorare con questo qua che è un drogato è uno che sa io ancora dicevamo prima magari è uno che va solo alle feste e si vede che è un drogato perché ha sempre le borse sotto gli occhi a me è sembrato talmente geniale che tu deduci che io mi faccio di cocaina dalla mastirazia perché ho le borse sotto gli occhi che le ho sempre avute quindi metà della popolazione italiana doveva essere drogati sì appunto che dico o mi arrabbio o ci rimango male comunque sai il tuo primo lavoro in editoria che scrivono ste lettere al giornale si sta sulle palle e la mia risposta è stata altrettanto non carina ho pubblicato tutte le storie perché ho detto ma tu mi vuoi far fuori così non hai proprio capito niente e pubblico tutte le storie e dico ok questa persona ha ragione ho le borse sotto gli occhi ma sono le più belle di stagione e comincio a fare questa rubrica con le borse di Saint Laurent di Chanel sotto gli occhi e la descrizione della donna in quel periodo io ero appena entrato in Next che è la nostra agenzia e mi diceva sempre Alfonso sempre Alfonso che ritorna guarda tu rispetto alle donne non avrai mai quel tipo di guadagni perché comunque la moda ha due filoni centrali che sono le borse e le scarpe già mezza cosa te ne vai via perché non puoi pubblicizzare le borse che però adesso è un po' sdoganato adesso è sdoganato ma l'epoca è un sistema certo allora con questa cosa ho fatto una rubrica che si chiamava Paolo Stella le borse sotto gli occhi ho cominciato a fare le foto con queste cose e tutti i brand hanno cominciato a pagarmi per fare la foto quindi ho raddoppiato dovrei trovare questa persona che mandava le lettere anonime per ringraziare la cena almeno ti devo offrire una cena ho raddoppiato il mio guadagno e è arrivata Cristina che aveva un piccolo centro in via Bonarroti che era talmente piccolo che Cristina non poteva permettersi ancora un appartamento quindi i primi tempi Cristina dormiva sul lettino dei massaggi ci pensi? credibile adesso è milionaria con la strozza praticamente lei già genio mi manda un kit con una crema con scritto Paolo Stella non ha più le borse sotto gli occhi con tutti i suoi disegnini fra l'altro c'era dentro tipo poi era già molto accattivante no? geniale c'era una bambolina voodoo contro gli haters che dicevano questa cosa c'era la camomilla era proprio un kit io ho detto ragazzi ma questo è geniale quindi l'ho pubblicata è tutta lei ha detto non ci credo mi hai pubblicato vieni ci siamo conosciuti sono andato nel suo nel suo centro mi ha sempre detto da qui d'ora in poi tu entra è tutto offerto per te siamo diventati grandi amici poi gli ho portato anche tanti certo certo altri influencer di qua e di là e dopo un annetto siamo andati a vivere insieme proprio è stato amore a prima vista trovo una donna di un'intelligenza può essere anche un macigno perché quando ci si mette ci si mette in quale cassa in quella che conosco che conoscevo pure ok possiamo dire tanto non ci abito più piazza Camillo De Meis ok ok che era quella precedente a questa qui si ok mi ricordo bene esattamente e da lì è nata una grandissima amicizia un un grandissimo scambio al di là di quello che è il lavoro che non ce ne frega a nessuno dei due anche se sono nell'assereditario spero che confermi se ne toglie dopo questa intervista una donna straordinaria sì 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 beh assolutamente è stata qui birlantissima non è un caso no non è mai ma sai cosa io ho scoperto che chi arriva al successo non è mai un caso anche quelli che ci sembrano dei deficienti sì sì esatto non è mai un caso no potrebbe potrebbe capitare Ale che ci siano delle persone di successo che siano uomini che siano donne che arrivano al successo e che però perché ci sono state una marea di come ti posso dire congiunture temporali favorevoli che sono incastrate però poi durano pochissimo eh sì sulla durata si capisce tutto invece chi dura e chi rimane sulla Crestellonda per tanti anni non può essere mai un caso così per gli sportivi così per chi fa nelle altre categorie lavorative basta essere garbati sì sei pronto? vai ci siamo inizio tu inizio io vai tu queste non erano le domande no qua ti abbiamo ragazzi se la finiamo domani qua ti abbiamo semplicemente messo a trattuaggio un attimino grazie un po' di cosine allora aspettazione qua noi facciamo la domanda e risposta secca ok quindi se la vuoi argomentare però di base no no secca partiamo dalla prima autrice sì 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 ci sta ci sta perché non lo sappiamo mai se poi in effetti è così va bene va bene va bene il libro al quale sei più affezionato meet me la boa true quello che uscirà ah hai visto la spoilerata? sì l'opportunità più bella che ti ha dato il tuo lavoro di rendere concreto un'idea che è una cosa che non succedeva prima di questo lavoro se tu hai un'idea adesso c'è la possibilità di renderla veramente reale prima ti mettevi in fila e rimanevi in fila eh sì undici ore però alla fine è quella la tua canzone del momento oddio sai quella di Billie Eilish mi fa piangere da morire la sai tocca note profonde danno? certo sì sì poi piange la mettono tutti su Instagram soprattutto questo era meglio quando non la usavano ma è bellissima io ecco perché non lo so perché sto su TikTok anche su TikTok ma Paolo si è mai cercato su Google? no l'avete dato voi prima no sai cosa ho cercato l'unica volta perché sono andato sai da Chiara Fornari la conoscete? da lei in vacanza a Panarea e il suo ultimo figlio mi assomiglia un sacco no? e allora io ho fatto una foto dicendo ah finalmente mio figlio mia madre la moglie la mia ex compagna me lo fa vedere senza problemi per me era evidentemente ironico eh papà tu spesso sei troppo per scontato che la tua ironia venga colta e su Google la prima ricerca era Paolo Stella papà Paolo Stella figlio allora salta vedi tutte quelle ricerche bellissima solo per quello no però non lo guardo trend su Google quel giorno oddio che cosa c'è come prima notizia non lo so non l'abbiamo cercata era una roba che ti avevo detto ma non l'abbiamo cercata lo facciamo ti prego vai poi lo facciamo lo puoi fare adesso qual è la prima notizia la prima vai Google vediamo cosa appare qua dice no vabbè è chiaro appare alcune foto e poi si va giù Wikipedia i vari libri è abbastanza istituzionale dai e vedi quello è il quinto libro questa è una risposta ai pregiudizi ai preconcetti tiè becca di istituzionalità è un Wikipedia guarda che magnum qua questa è una copertina di un libro vero questi sono il dietro delle foto ma vi dico un po' la terza che è quella la terza foto che è quella di per caso in realtà era appena chiuso il lockdown quindi non c'era il fotografo per farmi la foto e quindi hai fatto un autoscatto sì ma sul cesso quello lì è il mio bagno io sono seduto sul cesso e quella è la parete del cesso questa invece è quella della luna piena delle fragole sì ok ok grande questa questo è straordinario vedi se non ce l'avessi detto avrei detto vabbè una bella foto sì 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 però ho dovuto cancellare perché si vedeva lo sciacquone dietro come si chiama touch or touch quello che cancelli dietro l'ultima la lascio a te stavolta la lascio a me ok con pathos perché questa è importante perché la leggo prima con cara così l'ultima cosa alla quale pensi prima di dormire ah che bella ho un cartello che dovrei leggere la mattina e lo leggo la sera perché la sera per me quando vado a dormire è la rincorsa per il giorno dopo ok che è in inglese non te la so dire non mi ricordo esattamente comunque qual è la cosa di buono che posso fare oggi e ti mette tutto ogni giorno prefissati di fare una cosa buona vai con un obiettivo quindi penso qual è la cosa buona che posso fare il giorno dopo quella di oggi è stata a venire qua per noi e chiudere in bellezza per noi noi ringraziamo Paolo per grazie mille la sua profondità perché si è aperto come io pensavo che lui non si potesse aprire ma per il semplice motivo che alcune cose sono molto personali molto difficili fanno parte del passato però lui rivive il presente attraverso il passato e questo lo rende quello che è oggi e poi grazie del tuo tempo grazie a voi tantissimo ragazzi davvero grazie Pablo buona serata a voi ciao grazie a voi grazie a voi